Una recente ricerca promossa dall'Università di Padova e pubblicata sul Sole24ore fa emergere come le aziende che adottano modelli lean, metodi e strumenti di efficientamento organizzativo, hanno aumenti di produttività a doppia cifra in termini di valore aggiunto per ogni singolo addetto. Solo però un'azienda su cinque conosce e applica questi metodi e strumenti. Viviamo in un momento particolare delle nostre imprese. Se già prima era difficile fare previsioni oggi lo è ancora di più. Tutti i giorni escono delle nuove leggi fatte promesse di aiuti e finanziamenti per le imprese che pochi o pochissimi hanno visto. Io sono Matteo Busato, il fondatore del gruppo Make, la prima società di consulenza e formazione operativa specializzata in gestione, innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese. Quello che diciamo e facciamo non è per sentito dire, non è perché abbiamo letto o fatto un corso di formazione o visto fare da qualcun altro. Cose vere, cose concrete. Per questo voglio invitarti alle speciali serate che abbiamo organizzato in diverse città italiane. Abbiamo progettato e realizzato il corso intensivo inutile fatturato. Come fare più utili riducendo i costi e aumentando l'efficienza della tua azienda dal 20 al 50%. Questi eventi saranno organizzati in totale sicurezza. Abbiamo selezionato le migliori strutture per garantire il distanziamento fisico e tutte le norme sanitarie. La salute e il benessere delle persone è sempre al primo posto. Durante queste serate ti faremo comprendere quali sono i sette buchi capitali che non ti consentono di generare grandi utili con la tua impresa. Come ridurre gli sprechi di processi e persone per creare efficienza, liberare risorse ed avere più tempo libero. Come aumentare il livello di servizio della tua azienda per non parlare sempre di prezzo con i tuoi clienti. Come impostare il controllo di gestione e quali sono i numeri del tuo bilancio che devi assolutamente conoscere per guidare la tua azienda e recuperare liquidità. Come avviare un processo di innovazione strategica ad alto impatto per uscire dalla mischia della concorrenza, fare la differenza e generare nuovi prodotti e servizio che si vendono e generano grandi utili. collaboratori e scollaboratori. Come riconoscere chi all'interno della tua organizzazione ti aiuta a raggiungere gli obiettivi di fatturato e utili creando una cultura orientata ai risultati. Inoltre in ogni serata tu avrai la possibilità di ascoltare testimonianze e conoscere personalmente imprenditori e piccole e medie imprese che come te hanno già adottato il metodo make per aumentare gli utili, ridurre i costi e aumentare l'efficienza della loro organizzazione e della loro azienda dal 20 al 50 per cento. Analizzeremo insieme casi concreti con dati, cifre e fatti per farti capire come abbiamo già trasformato piccole e medie imprese. Durante la serata avrai la possibilità di conoscere i professionisti del gruppo make di altissima esperienza specializzati in gestione, innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese. Potrai confrontarti fare domande specifiche sulla tua attività e la tua impresa. A fine serata ti regalerò il manuale del corso intensivo inutile fatturato. Al suo interno troverai il metodo make per la gestione, innovazione e sviluppo della piccola e medie impresa. Una raccolta di 13 casi studio, storie e racconti di persone e aziende, oltre a delle video testimonianze di imprese 100 per cento made in italy. Inoltre a fine serata avrai la possibilità di prenotare una consulenza gratuita sui temi del corso inutile fatturato per la tua azienda. Per ragioni di sicurezza i posti di ogni serata sono limitati e ridotti rispetto la normale capienza delle aule. Per non perderti la possibilità di partecipare ti consiglio di scegliere la città più vicina e comoda a te e prenotarti subito. E' la concretezza il nostro punto di forza. Noi del gruppo make ci concentriamo in azioni pratiche e concrete per aiutare te amico imprenditore e la tua azienda a diventare un caso di successo. Anch'io un grande sogno, ti aspetto in aula.